Dov'è papà? Sta correndo. Da cosa scappa? Cos'è che ti agita tanto? Qualunque cosa. La famiglia, il lavoro. Perché tuo figlio ha rapito la gatta? Perché è geloso di lei. Tremendamente geloso. La mia squadra è senza speranza e io... Non riesco a respirare! Il dottore ha detto che dipende dallo stress. E non ti ha prescritto niente per curarlo? Sì, andare a correre. Chi è quello? Perché cerchi il signor Poplar? Perché è mio nonno. Lui non vive più qui. Tua madre sa che sei scappato di casa? A lei non importa niente. È una tossica. Non glielo rimando a casa. Kyle si allenerà per un po' con la nostra squadra. Hai mai combattuto finora? Un pochino. Abbiamo poco da insegnarti. Se voglio fumare, devo andare all'aperto. Tu non dovresti fumare. Lo so, ma se lo faccio? Voglio andare a spaccare la faccia alla madre. Non credo che spaccare la faccia a qualcuno sia la soluzione migliore. Dammi uno schiaffo forte, come se dovessi svegliarmi. Perché papà ha picchiato Kyle? Non ne ho idee. Dammi almeno una possibilità. Sono pronta. La possibilità di fare qualcosa di speciale. La sua vita potrebbe cambiare.